E' una Virtus Francavilla letteralmente scatenata sul mercato, dopo aver piazzato il colpo Murillo che venerdì pomeriggio è arrivato in città rilasciando anche le prime parole ad Antenna Sud e fatta anche per Andrea Risolo, per lui comincia la terza avventura in maglia bianca azzurra dopo quella in Serie D nell'anno della promozione tra i pro e quella di due stagioni fa con Trocini in panchina, un ritorno, quello del centrocampista, fortemente voluto da entrambe le parti, il calciatore si è così riavvicinato a casa, ritrova una piazza nella quale ha sempre fatto bene e sarà tra i pilastri del nuovo progetto alla società, invece è sempre piaciuto, è uno dei pupilli del presidente Magri ma anche di Antonio Calabro con cui ha vissuto probabilmente l'apice della sua carriera a Catanzaro a differenza del primo ritorno, questa volta il mesagnese firma un contratto biennale con il club di Via Quinto Ennio ha già salutato Catanzaro e i suoi compagni ed è pronto a mettersi a disposizione dell'allenatore per i primi allenamenti precampionato, un ritorno gradito anche alla piazza che non ha mai dimenticato quel suo gol storico al granillo contro lo Schiacciasassi Regina che vinse poi il campionato, Virtus Francavilla e Risolo, atto terzo con la regia di Antonio Calabro Grazie a tutti! 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 Grazie.